Sono stato sempre un farfallone. Una volta me ne andai di testa per una del nord. E com'era, nonna? Era una vecchia signora, ma ci sapeva fare. Ma poi ho capito che qui c'è posto solo per una. La nonna. La nonna. La Bari. Non tradire la tua passione. Abbonati alla Bari. Puoi farlo allo stadio su vivaticket.it e anche a rate.